Grande successo sta riscuotendo in questi giorni la secolare fiera della Frecagnola, di scena dal 9 al 13 settembre nello splendido borgo di Cannalonga, piccolo paesino dell'entroterra cilentano. Tantissime presenze sono state registrate in questi quattro giorni, in particolare presso la baracca di Onofrio e Carmela, che offrono a tutti coloro che vi fanno visita squisite pietanze a base di carne di capra e altre specialità gastronomiche tipiche del Cilento. Cosa ne pensa della baracca di Onofrio e Carmela? Guarda io sono tanti anni che vengo a Cannalonga, sono mancato solo l'anno scorso per problemi familiari, però secondo me è buona dappertutto, perché la prima sera comunque la capra è buona dappertutto. Faccio i complimenti al cuoco perché è davvero buona, buona buona. Un voto da 1 a 10 alla baracca di Onofrio e Carmela? 10. 10. Michele 10? 10. Ci troviamo qui con altri turisti perché mi sembra che non sono di Cannalonga. Allora posso chiedervi com'è il cibo qui in questo senso? Buonissimo. Quindi da Onofrio e Carmela un voto da 1 a 10? 10. Da dove venite? Da Modena. Modena, in vacanza qui nel Cilento? A Marina di Camerota. Allora benvenuti nel Cilento. Come hai mangiato qui nella baracca? Benissimo, benissimo. Da dove venite? Da Scea. Quindi un voto alla baracca di Onofrio e Carmela da 1 a 10? 10. Perfetto. Vi ringrazio e buona continuazione. Allora signora Gaetana come giudica il cibo, la degustazione qui in questa baracca? Ottimo, ottimo tutto. Il servizio, il cibo è tutto buonissimo. Lei di dove è? Originale di Cannalonga ma vivo a Varese. E siamo venute con le mie amiche per la fiera della Frecagnola. Immagino che lei abita a Cunardo, sbaglio? Certo a Cunardo, a Cunardo. Signore, sono di Cunardo? Vicino Cunardo. E conosco bene, di dove siete signora? Io abito a Marchirollo ma sono di Castellammare di Stabbia. Mi hanno molto parlato bene di questa festa e sono venuta a verificare. Cosa dice della baracca di Onofrio e Carmela? Ottimo, un cibo veramente fantastico, genuino e cucinato molto bene. Facciamo Gingin, alziamo il bicchiere, beviamo, 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 tutto il mondo non ha Gingin, sollevando un bicchiere di vino. Gingin!